Presidente, quello che è accaduto è chiaro agli occhi di tutti. Abbiamo fatto un lavoro serio in queste settimane per provare a fare una legge elettorale che venisse condivisa da tutti, dai grandi gruppi parlamentari. Un lavoro molto difficile e complicato. Dopodiché ci siamo trovati di fronte a una richiesta che veniva dal Movimento 5 Stelle di intervenire su due punti, sulle preferenze e sul voto disgiunto. Oggi il Movimento 5 Stelle ha dimostrato cosa vale la loro parola. Nulla! Nulla! Non vale nulla! Non vale nulla! Lo dice chi più di altri si è speso dicendo che era possibile parlare con un gruppo parlamentare in maniera normale, pensando che ci potessero essere gli interlocutori che avessero a cuore l'interesse del Paese prima che l'interesse di parte. Questo non è accaduto. Presidente, la legge elettorale va fatta, lo abbiamo sempre detto, ce lo ha detto il Presidente della Repubblica. Un accordo si regge sulla base delle cose che si stabiliscono insieme. Questo testo che è arrivato in Aula è stato votato con il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, che in Commissione ha bocciato quell'emendamento, bocciato anche con i loro voti.